Allora, dicevo, io sono contento di essere qui a Milano e mi spiace che non sia venuta la mia ragazza perché lei aveva mindfulness stasera. Conoscete? Qualcuno di voi ha mai fatto mindfulness? Insomma, lavorano molto sull'autostima, sull'autosvalutazione. Insomma, se davvero funziona, poi devo trovarmi un'altra ragazza. La prima volta che ho fatto questa battuta, lei era tra il pubblico, dopo lo spettacolo, è venuta da me e mi ha detto, molto carina, però per un po'. Te lo so chi da solo. Cosa che io da ragazzo ho provato a fare diverse volte, non ci sono mai riuscito, in compenso ho rimediato questa bellissima scogliosi. Quindi, non fatelo a casa, non fatelo a casa. Semmai fatelo qui, insomma.